La famiglia era una figa secca e una castagna mucata, era figlio di Dio allora. Ora siamo tutti ricchi, tutti i panzellati mucini, un po' ci stocco non ti piace, questo non ti piace, la carne, io la carne per dire la verità, se per me ci poteva stare le mie bucciarie, durante l'anno, la posso provare una bucciarie, se la provo una bucciarie, manca, è ciò che viscero è bello, tanto mi sia, e crescivano i cristiani in salute, ora siamo tutti maluti, non mali buccioli. I pescatori, anche qui calabresi, come in Sicilia, prendono tutti, diciamo, le tecniche, dalla pesca di Gansir, in tutte le pesche, la pesca al tono, la pesca al pesce spada, in tutte le pesche, perché sono stati sempre, diciamo, è stato un borgo marinaro sempre attivo, Gansir. Cambiava un mondo così e così. Non si sente la pesca del pesce spada, non si sente, perché non si nota, non si sente, non si nota la pesca del pesce spada, non si nota la pesca del pesce, perché una volta si notava, passava con la madre che voleva, voleva quello, con il re che ammazzava, quindi che bocciava e grattava dalla strada, è un'altra cosa, era bello. Adesso è brutto, sì, era bello, che era proprio, avesse poteva fare film, se poteva, vedo, 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 vedo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no